5 agosto 1898. Nasce a Torino Piero Sraffa. Si laurea nel 1920 con Luigi e Inaudi, presentando una tesi sull'inflazione in Italia durante la Prima Guerra Mondiale. Fra il 1921 e il 22 studia alla London School of Economics e al suo rientro in Italia assume una serie di incarichi universitari prima di essere chiamato a Cambridge da John Maynard Keynes. Sraffa si trasferisce in Inghilterra nel 1927 e vi trascorre il resto della sua vita, preparando l'opera nella quale confluiscono decenni di riflessione critica sulla teoria economica, produzioni di merci a mezzo di merci, pubblicata nel 1960. Il saggio è concepito da Sraffa come una mera premessa nella quale vengono gettate le basi teoriche per una critica dell'economia politica, in particolare della scuola marginalista e per un perfezionamento della teoria classica del valore sviluppata da Riccardo. È a partire da quest'opera che il pensiero di Sraffa diventa oggetto di grande dibattito economico e politico. Sraffa muore a Cambridge il 3 settembre del 1983.